Musica Vallo di Diano pubblicato l'avviso per i primi due bandi del Gallo Vallo di Diano aziende agricole ed imprese agroturistiche i primi beneficiari Elezioni provinciali, nel nuovo consiglio provinciale entra anche la Lega Ernesto Sica più votato di tutto il centrodestra Venezuela, anche dal Vallo di Diano partono le proteste contro il Movimento 5 Stelle per la neutralità sulla crisi venezuelana Pastorale giovanile diocesana, parte il progetto Give Me Five Cinema è certosa, cineturismo nel Vallo di Diano, un obiettivo realizzabile Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale Saranno aziende agricole ed imprese agroturistiche i primi a beneficiare dei bandi del Gallo Vallo di Diano Il consiglio di amministrazione infatti lo scorso mercoledì 30 gennaio ha approvato la versione definitiva dei primi due bandi che a breve saranno pubblicati sul sito dell'ente Vediamo il servizio Come promesso sono pronti i primi due bandi per l'erogazione di fondi del Gallo Vallo di Diano Sul sito dell'ente sono infatti stati pubblicati gli avvisi che anticipano le misure ammesse a finanziamento per un totale di 800.000 euro Nel dettaglio si tratta della misura 4.1.1 per l'erogazione di 600.000 euro da destinare ad investimenti nelle aziende agricole e la misura 6.4.1 che prevede l'erogazione di 200.000 euro da destinare alla creazione e allo sviluppo di imprese agricole con particolare riferimento ad imprese agroturistiche Entro il 28 febbraio sarà possibile conoscere i dettagli dei due bandi che saranno presentati in una giornata di focus dedicato alle due tipologie sabato 23 febbraio Entra così nel vivo l'attività del gruppo di azione locale che attraverso i fondi del piano di sviluppo rurale daranno respiro e nuove opportunità al territorio in particolare in quei settori strettamente connessi alla vocazione dell'area e alla caratteristica strutturale della stessa ma anche offrendo importanti opportunità anche in altri settori come sottolineato dal presidente del Galvalo di Diano Attilio Romano che ha anche evidenziato l'importanza di avvalersi di consulenti che sono ben addentrati nella materia per la presentazione delle domande Le misure del PSR come sappiamo bene appartengono al mondo della ruralità in generale quindi insomma è chiaro che dobbiamo sempre pensare a fondi che sono destinati all'agricoltura però appunto cittavo la misura 621 dove abbiamo una dotazione finanziaria consistente di 900 mila Euro dove si possono fare non solamente esperienze in agricoltura ma esperienze nel campo del commercio, dell'assigianato, del turismo, dei servizi approfittiamo di questo canale di finanziamento delle misure del PSR per fare anche tante altre cose è chiaro che bisogna pensarsi a immaginarci come degli imprenditori con delle attività economiche, con delle vastità io in grado di poter fare determinate attività sul nostro territorio questo è chiaramente lo schema sono delle risorse che vanno a finanziare pratiche per il 75-80% in molti casi, in alcuni casi non c'è nemmeno l'obbligo della risultazione quindi non pensiamo che siano delle piccole cifre sono piccole cifre che sono significative anche perché poi abbiamo una realtà imprenditoriale che sono comunque piccoli imprenditori che hanno uno, due, tre dipendenti in molti casi non arrivano e non potranno arrivare a cinque dipendenti quindi parliamo di piccole, davvero piccole attività e quindi da questo punto di vista siamo nel solco giusto il suggerimento che intendo dare è che ovviamente l'imprenditore deve partire da una propria idea, da una propria vocazione, da una propria ispirazione da un desiderio e quello senza dubbio e poi di affidarsi a tecnici validi a persone che sono competenti a persone che conoscono le misure del PSR perché naturalmente queste misure certamente le risorse ci sono certamente verranno erogate però c'è bisogno di un particolare impegno sotto l'aspetto tecnico, amministrativo, procedurale, giuridico poi c'è la denaturalizzazione non vengono consegnati i progetti a mano agli uffici del Gallo non potranno essere consegnati perché lo prevede le nuove spedizioni di PSR e dovranno essere inviati tutte con firma digitale attraverso la piattaforma insomma i tecnici sanno benissimo di che cosa parliamo Ed ora la politica le elezioni provinciali per la scelta dei componenti del nuovo consiglio provinciale che resterà in carica per due anni hanno visto la schiacciante vittoria del PD e del centrosinistra quattro i seggi occupati dal centrodestra con due per Forza Italia e uno rispettivamente per Fratelli d'Italia e la Lega che per la prima volta può vantare la presenza di un suo esponente all'interno del consiglio provinciale una prima volta che inizia alla grande dato che Ernesto Sica, candidato eletto dalla Lega risulta essere anche il più votato all'interno del centrodestra con 3.387 voti distaccando il primo eletto di Forza Italia di circa mille voti andiamolo ad ascoltare Si è stata una bellissima fatica da parte mia da parte dell'esecutivo provinciale ringrazio l'esecutivo tutta la lista il capitano Falcone il nostro segretario provinciale abbiamo fatto un grande lavoro per la prima volta la Lega entra in consiglio provinciale continuiamo a lavorare costruendo questa squadra stupenda e abbiamo la responsabilità di costruire un orizzonte nuovo un orizzonte con dei principi e dei valori che sono le fondamenta della Lega e quindi ci apprestiamo a vivere una stagione bellissima Resta ovviamente il PD e il partito maggiormente rappresentativo del consiglio provinciale in che modo adesso il centrodestra potrà far sentire il suo ruolo in consiglio provinciale? Ricordiamo che la provincia di Salerno resta un ente di secondo livello Le province vivono questa difficoltà questa stupida norma che mi auguro che il legislatore ci metta mano e possa subito provvedere a realizzare una nuova provincia attraverso una nuova legislazione affinché possa essere veramente un punto di riferimento per i cittadini La Lega farà tanto, farà bene attraverso proposte concrete per l'edilizia scolastica, per la manutenzione delle strade per quella che la provincia dovrebbe essere perlomeno un organo di coordinamento fra gli enti locali questo è mancato ed è stato uno dei grossi guai che è costata la mancanza di realizzazione di importanti infrastrutture quindi abbiamo la consapevolezza di cosa deve essere la provincia dobbiamo mettere in mano con determinazione noi in modo particolare della Lega sentiamo la grossa responsabilità per il futuro della provincia di Salerno Lei ha ricoperto diversi ruoli politici oltre ad essere stato sindaco oggi volendo dare un giudizio cosa cambia per un consigliere provinciale di oggi rispetto a ieri? Qual è il suo potere e soprattutto i suoi compiti? La provincia è la massima espressione dell'incapacità del legislatore di mettere in mano ciò che è necessario mettere in mano quindi è una vera riforma degli enti locali che passa attraverso un cambiamento radicale di cosa è oggi la provincia la provincia deve essere quella che non è mai stata un organo di coordinamento i paesi e le comunità locali vivono l'esaltazione dei propri campanili invece si deve essere coesiti si deve concretamente realizzare quella che si parla di grande area vasta che non si è mai fatta la provincia deve essere quest'organo di sintesi per lo meno questo che non impegna né soldi né altro ma impegna sacrificio da chi ha responsabilità dirette e a chi governa i processi della provincia far coordinare i processi all'interno delle comunità locali è fondamentale ed ora una notizia sul fronte sanità la CGL nazionale, la CGL campania, la Camera del lavoro metropolitana di Napoli e la CGL Napoli e Campania condannano le dichiarazioni del presidente De Luca nel corso di una trasmissione televisiva dove nel riportare la relazione di un dirigente medico circa la presenza di formiche al San Giovanni Bosco ha fatto un parallelismo tra sindacalismo e malavita organizzata le sigle sindacali dunque fanno sapere che provvederanno ad accertare la sussistenza degli estremi per la calunnia o altri reati attendendo le scuse ufficiali del presidente ed informandolo della volontà di costituirsi in tutte le sedi competenti per difendere l'onorabilità del sindacato confederale e per tutelare tutti i rappresentanti sindacali liberamente scelti dalle lavoratrici e dai lavoratori del San Giovanni Bosco di Napoli Cambiamo argomento La crisi in Venezuela tocca da vicino l'area sud di Salerno per le migliaia di italo-venezuelani che sono dovuti tornare in Italia viste le condizioni di povertà assoluta del Venezuela e l'assenza di medicina e cibo La posizione del governo Conte non piace La vicenda Venezuela tiene con il fiato sospeso anche il Vallo di Diano e il Cilento dove tantissimi italo-venezuelani sono stati costretti a tornare vista la crisi che il paese sta attraversando ormai da diversi anni e chiedono che il governo italiano manifesti la sua vicinanza al popolo venezuelano riconoscendo Juan Guaidó come presidente ad Interim L'Unione Europea aveva provato a ufficializzare compatta l'appoggio al leader dell'opposizione autoproclamato si presidente essendo presidente dell'Assemblea Nazionale che il popolo venezuelano riconosce come unico organo legalmente costituito Guaidó si è autoproclamato presidente al fine di poter indire nuove elezioni democratiche così come previsto dalla Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela Il no del governo italiano come da decisione pare del premier Conte avallata dal vice premier Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle che chiedono entrambi di mantenere la neutralità ha portato al fallimento della proposta dell'Europa di essere compatti a favore di Guaidó per la richiesta delle elezioni libere necessitando dell'unanimità dei paesi europei una posizione non gradita anche dal Vallo di Diano con elettori pentastellati che alle scorse elezioni dicono di aver sostenuto il Movimento 5 Stelle che oggi attaccano tale decisione Intanto già 19 paesi europei hanno manifestato singolarmente l'appoggio al leader dell'opposizione tra cui anche Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna In Italia partono invece le pressioni sul premier Conte per rivedere la posizione assunta Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha tardato a rispondere alle comunità italo-venezuelane che sabato scorso gli avevano fatto pervenire una lettera aperta per chiedere al governo italiano di aderire ed abbracciare la proposta dell'Unione Europea al sostegno di Guaidó a difesa degli oltre 2 milioni di italo-venezuelani che chiedono un sistema politico democratico Il vice premier Matteo Salvini nel bollare la decisione del premier come una pessima figura che l'Italia sta facendo ha accolto ed incontrato una delegazione di italo-venezuelani in Italia Sono molti infatti gli italo-venezuelani che in questi anni di governo Maduro sono stati costretti a lasciare le loro case e far rientro in Italia Il Valle Oridiano e il Cilento lo testimoniano avendo visto crescere le comunità italo-venezuelane Sono iniziate alla presenza del sindaco i lavori di metanizzazione nel comune di Torraca L'attesa opera rientra nel più ampio progetto che vede insieme 64 comuni cilentani per la realizzazione della rete di metanizzazione soddisfatto il primo cittadino di Torraca presente all'inizio dei lavori Anche il comune di Torraca sarà breve dotato di una rete di condotta del metano che darà un nuovo impulso al territorio Rui ad annunciarlo il sindaco di Torraca Francesco Bianco soddisfatto di questo importante passo in avanti del comune che grazie alla sottoscrizione dell'accordo che vede insieme numerosi comuni cilentani vede anche il territorio di Torraca tra i beneficiari dei fondi per la realizzazione della fondamentale infrastruttura attesa da tantissimi anni Va avanti quindi il progetto di metanizzazione del Cilento che coinvolge 64 comuni totali tra Cilento e Golfo di Policastro e che vede il comune di Torraca rientrare nella tranche di finanziamento del progetto che interessa 32 comuni che fanno capo al comune di Celle di Bulgaria Circa 1.900.000 euro il costo dell'opera che interesserà l'intero territorio e la cui conclusione è prevista per la fine dell'anno L'inizio dei lavori ad opera della ditta Guagliacielo di Serre rappresenta un momento importante e storico per il territorio a cui il primo cittadino ha voluto partecipare personalmente per la valenza dell'infrastruttura che segna anche un passo in avanti necessario per il territorio Si tratta di un progetto molto importante per l'intero territorio ha spiegato il primo cittadino che permetterà alla comunità un sostanzioso risparmio economico e al nostro territorio un ammodernamento dei servizi Un'opportunità di crescita che cercheremo di sfruttare al meglio Voglio pubblicamente ringraziare, ha aggiunto Francesco Bianco l'ufficio tecnico comunale ed in particolare il responsabile Vincenzo Bruzzese per l'importante contributo che ha dato a questo progetto Il metano nel Cilento, spiega invece Gino Marotta sindaco di Celle di Bulgaria, comune capofila del progetto di metanizzazione del Cilento a cui fa capo il comune di Torraca è atteso ormai da anni e oggi finalmente si sta realizzando Ora vigileremo affinché i lavori procedano con regolarità rispettando le scadenze e le nostre bellezze naturali E sta per iniziare nel Vallo di Diano un progetto di volontariato organizzato dalla pastorale giovanile della diocesi di Teggiano Policastro punta a coinvolgere i giovani, a dare una mano e ad essere protagonisti Per aderire c'è tempo sino al 28 febbraio Un grande progetto di volontariato giovanile Give Me Five, il futuro è possibile se si serve la vita sta per partire nel Vallo di Diano a curarlo l'ufficio per la pastorale giovanile della diocesi di Teggiano Policastro diretto da Don Donato Varuzza L'iniziativa è stata presentata a Sala Consilina in occasione della 41esima giornata per la vita è pensata per coinvolgere quanti tra i giovani del territorio vogliano donare gratuitamente tempo ed energie a chi vive in condizioni di disagio e marginalità dare una mano e insieme tenere viva la sensibilità verso chi ha bisogno in piena aderenza con l'azione educativa della pastorale giovanile che ogni giorno promuove il protagonismo dei giovani aiutare e servire l'altro, dicono gli organizzatori del progetto è un modo per raggiungere vita alla nostra vita è un progetto che noi abbiamo pensato con la pastorale giovanile della diocesi di Teggiano Policastro per avviare un progetto appunto di collaborazione fra i giovani e di scoperta oltre che di solidarietà in questi centri che sono tantissimi nel Vallo di Diano e spesso noi non ne siamo a conoscenza i centri che per il momento vedranno ospiti il nostro progetto saranno due centri della Caritas uno a Polle e uno a Sassano poi ci saranno diversi centri come l'Istituto Juventus, il Centro Iris quindi alcuni centri per le persone con disabilità e poi avremo invece dei centri per anziani presenteremo questo progetto che prende il suo nome appunto Give Me Five da un triplice significato Give Me Five per dare 5 minuti perché spesso la nostra vita è così frenetica che non ci fermiamo con le persone che hanno realmente bisogno di noi poi dammi la tua mano quindi dammi il 5 come senso di solidarietà e poi un significato che si riferisce al miracolo dei 5 pani e i due pesci con cui con questi 5 pani Gesù sfamò circa 5.000 persone e noi con il poco che possiamo dare speriamo di fare nelle mani di Dio tante cose per l'adesione c'è una scadenza il progetto è rivolto dai giovani dai 16 ai 35 anni e la scadenza è il 28 di questo mese il 28 febbraio seguiranno quindi degli incontri di formazione per poi avviare, speriamo, verso aprile il progetto nei vari centri Andiamo avanti domani pomeriggio prenderà il via un nuovo progetto formativo che vede insieme la Banca Montepruno l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina e la Camera di Commercio nel primo appuntamento si parlerà di fatture elettroniche e privacy vediamo Sarà ufficializzato domani presso la Sala Cultura della Banca Montepruno il protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto formativo che vede insieme l'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina e la Camera di Commercio un progetto che punta a mantenere il territorio e i professionisti aggiornati sulle ultime novità che la legge introduce al fine di favorire una corretta formazione e informazione per le imprese sulle ultime novità introdotte dal sistema la sottoscrizione dell'accordo sarà occasione per dare inizio alle attività del progetto e informiamoci con la trattazione di due tematiche di grande rilevanza per l'imprenditoria indipendentemente dal settore domani pomeriggio 6 febbraio a partire dalle ore 16 si parlerà di fattura elettronica e delle novità introdotte in materia di privacy il primo incontro si aprirà con la sottoscrizione del protocollo d'intesa con il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese il vicepresidente della Camera di Commercio Giuseppe Gallo il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sala Consiglia Annunzio di Torto che saluteranno i partecipanti al seminario presente inoltre anche il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vallo della Lucania Carmine Sant'Angelo a seguire Maria Antonietta Quino introdurrà gli esperti relatori sarà l'avvocato penalista Nicola Pellegrino esperto di privacy a relazionare sul tema nuova privacy applicabilità, sanzioni ed iter di adeguamento a seguire il Dottor Claudio Costa parlerà della fatturazione elettronica normativa ed applicabilità diamo vita affermato il direttore generale Michele Albanese ad un progetto di collaborazione stimolante e qualificato che si prefigura di grande sostegno per imprese e professionisti l'obiettivo è migliorare la conoscenza di alcune argomentazioni che spesso vengono tralasciate soprattutto da parte degli imprenditori che sono presi normalmente da altre situazioni la partnership con l'ordine dei dottori commercialisti di Sala Consiglia Lago Negro e la Camera di Commercio di Salerno inoltre certifica la valenza di un progetto formativo che ci auguriamo possa essere di grande interesse per tutti gli incontri che si svolgeranno con cadenza mensile che riguarderanno temi come accesso al credito antireciclaggio garanzia giovani opportunità per imprese e giovani imprenditori controllo di gestione crisi di impresa prevedono il riconoscimento di crediti formativi in base alle ore effettive di partecipazione Ed ora la pubblicità torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie restate con noi Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale torniamo a Sant'Arsenio dove nei giorni scorsi è stata inaugurata la sede locale di Fare Ambiente presieduta da Raffaele Polito un supporto importante a titolo di volontariato per l'amministrazione comunale in tema di tutela ambientale e difesa degli animali Sant'Arsenio da qualche giorno ha un presidio di Fare Ambiente il movimento ecologista europeo fondato da Vincenzo Pepe è un gruppo di guardie ecozoofile a vigilare sul territorio contro il degrado ambientale e in difesa degli animali il nostro è un gruppo creato da persone cittadini semplici che sono molto attaccati al territorio e alla difesa dell'ambiente e degli animali per cui abbiamo deciso appunto di dedicare un po' del nostro tempo del nostro tempo libero per la difesa appunto del nostro territorio per la prevenzione dell'inguinamento e soprattutto per la difesa contro il maltrattamento degli animali soprattutto gli animali da affezione e per questo motivo abbiamo deciso di aderire all'associazione europea di Fare Ambiente che si occupa proprio di questo settore e abbiamo frequentato un corso di preparazione per il conseguimento del titolo di Guardie Ecozofile Ambientali grazie a questo titolo poi potremmo collaborare con i vari enti istituzionali del territorio con i vari comuni anche con convenzioni per appunto operare in questo senso la sezione locale di Fare Ambiente presieduta da Raffaele Ippolito è stata inaugurata nei giorni scorsi e a sede in piazza dei Padri Domenicani nell'occasione sono state anche presentate le guardie ecozofile ora nel pieno della loro operatività e sempre nella stessa serata presso l'auditorium di Palazzo Fiordelisi si è tenuto un incontro su ambiente e rifiuti il ruolo degli enti locali e l'organizzazione dei servizi con il supporto del volontariato a cui hanno preso parte i referenti provinciali di Fare Ambiente delle guardie zoofile ambientali che si sono confrontati con il sindaco Donato Pica Oggi in particolare gli enti locali hanno bisogno del supporto del volontariato anche per il numero esiguo di vigili urbani a disposizione per cui nella fase successiva noi pensiamo di stipulare un'apposita convenzione con Fare Ambiente oltre che con altre associazioni che sono presenti sul territorio per coadiuvare l'ente pubblico nelle funzioni fondamentali di controllo del territorio di vigilanza ambientale e anche di collaborazione per quel che concerne la viabilità e la verifica diciamo del rispetto delle normative che regolano appunto la vita delle amministrazioni locali e il nostro comprensorio ha un nuovo Leoclub denominato Vallo di Diano è costituito dai giovani al di sotto dei 30 anni vediamo i dettagli si è costituito nel nostro comprensorio il Leoclub Vallo di Diano composto da numerosi giovani al di sotto dei 30 anni con il preciso scopo di offrire coetane valdeanesi l'opportunità di crescere e offrire il proprio contributo al territorio d'appartenenza la nascita del Leoclub è stata sponsorizzata dai tre presidenti Lions presenti sul territorio Massimo Burzo del club di Sala Consilina Vallo di Diano Giuseppe Pinto del club di Teggiano Polla Tanacro e Pasquale Pucciarelli del club Padula Certosa San Lorenzo l'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente di zona Walter Nicodemo e sostenuta da tutti i componenti dei sodalizi valdianesi i ragazzi coinvolti hanno manifestato sin da subito un grande entusiasmo unito alla volontà di dedicare il proprio tempo libero al servizio della collettività cercando di offrire un contributo alle realtà più fragili della nostra società il club è composto da 25 soci fondatori desiderosi di impegnarsi e di lasciare un segno positivo tangibile del loro operato il direttivo è così composto presidente Martina Santini vicepresidente Pietro Carucci segretario Alice Amato tesoriere Celestino di Codemo cerimoniere Giovanni D'Amato responsabili service Giulia Burso e Michele Vita e officer telematico Maria Carmela Ruotolo tutti i componenti dell'organismo avranno come advisor Rosi Pepe che li guiderà nello svolgimento delle attività in programma intercettare le produzioni cinematografiche per consentire al Vallo di Diano con un ampio patrimonio artistico di sfruttare quel fenomeno economico socio-culturale qual è il cineturismo una prospettiva immaginata e possibile e quanto emerso dall'incontro cinema eccertosa che si è tenuto lo scorso fine settimana a Padula inserire il Vallo di Diano attraverso il suo patrimonio artistico in quella tendenza affermatasi con successo negli ultimi anni qual è il cineturismo e quanto stanno provando a fare vallo a conoscere il comune di Padula l'ambizioso e fattibile progetto non può che partire dalla Certosa di San Lorenzo non nuova a tale genere di esperienze è stata location cinematografica del film storico quanto è bello l'umorire acciso e lo scorso fine settimana hanno organizzato l'incontro cinema eccertosa L'obiettivo è quello di indagare il rapporto che esiste tra il cinema come linguaggio come forma di comunicazione oggi importantissima anche per la valorizzazione dei luoghi è un rapporto molto stretto da portare avanti come discorso di valorizzazione appunto del nostro patrimonio culturale e poi anche ovviamente per immaginare scenari futuri e attrarre anche produzioni che vogliano venire qui a girare a far conoscere il nostro patrimonio è stato un momento di riflessione con gli interventi dei giornalisti Angelo Raffaele Marmo e Giuseppe D'Amico partito dal film storico degli anni 70 per analizzare il ruolo del monumento certosino come location cinematografica nel contesto vivace di quegli anni anche per il Vallo di Viano era presente la figlia del protagonista Stefano Santa Flores Francesca che ha accolto con entusiasmo le proposte degli organizzatori il sindaco mi ha chiesto una collaborazione futura che per me sarebbe un onore anche perché io lavoro proprio io lavoro in teatro soprattutto ho una mia compagnia una mia produzione una mia scuola di teatro a Roma e credo però lavoro in tutta Italia perché credo e punto moltissima la valorizzazione ho la fortuna di essere molto curiosa e molto interessata io sono napoletana comunque quindi il territorio il sud il meridione ovviamente mi appartiene e possibilmente valorizzare delle eccellenze veramente così speciali come queste del Vallo che in questi due giorni mi hanno fatto conoscere gli amici che mi hanno accolto qui per me sarebbe veramente qualcosa di eccezionale sempre attraverso l'arte che nello specifico l'arte teatrale è quella che mi appartiene soddisfatta per la serata e per le prospettive future che potrebbero vedere protagonista la certuosa di San Lorenzo l'amministrazione comunale rappresentata nell'occasione dal sindaco Paolo Imparato e dall'assessore alla cultura Filomena Chiappardo una serata stupenda importante l'auspicio è che tutto questo cammino che si sta compiendo a Padula sotto ogni punto di vista di promozione culturale e turistico abbia sempre un riscontro maggiormente positivo questo è l'auspicio che mi fa guardare anche con molta fiducia verso il futuro cambiamo argomento il carnevale agropolese è un evento atteso ogni anno dei cittadini e soprattutto dai più piccoli ma in questi giorni sorge la polemica da parte dell'associazione operatori turistici del posto che denuncia la promozione dell'evento pubblico attraverso un sito internet privato il carnevale di Agropoli è un patrimonio della città un evento alimentato dalla collaborazione e dalla capacità di tantissime persone i carristi gli animatori del carnevale dei bambini gli organizzatori della corrida gli insegnanti che con gli alunni partecipano ai concorsi ad esso collegati che si sosseguono da anni i commercianti le maschere e le mascherine che affollano le strade in quei giorni si tratta di una grande festa di tutti forse il più istituzionale degli eventi ad Agropoli fanno sapere attraverso una nota stampa dall'Associazione Operatori Turistici di Agropoli la promozione dell'evento dovrebbe quindi essere istituzionale ovvero affidata dall'ente comunale di Agropoli che è il principale finanziatore dell'evento stesso oppure ad un'associazione incaricata di gestire l'evento spiegano se ciò non fosse e venisse invece presa in carico da un privato si correrebbe il rischio che il privato facesse più che legittimamente i propri interessi ponendo in secondo piano quelli dell'evento se poi avvenisse che in privato acquistasse per una manciata di euro il dominio di un sito web e proclamasse questo sito come il sito istituzionale del carnevale agropolese linkandolo presso i siti istituzionali senza aver acquisito autorizzazione alcuna dall'ente promotore dell'iniziativa che resta il comune di Agropoli ebbene saremmo alla farsa se poi il privato proprietario di tale dominio chiedesse del denaro per ospitare il link o banner di altre associazioni o soggetti territoriali vendendo il valore aggiunto di un evento pubblico che non è di sua proprietà andremmo ben oltre la farsa il nocciolo della questione è distinguere l'evento patrimonio di tutti tutelato dall'ente finanziatore comune di Agropoli dal sito proprietà di un privato che a quanto ci risulta non ha ricevuto alcun tipo di incarico relativo alla promozione dell'evento medesimo la OTA l'associazione operatori turistici Agropoli chiede quindi a chi e a che titolo l'attuale sito ufficiale del carnevale di Agropoli www.carnevalediagropoli.com sia intestato e come l'intestatario rispetti i canoni di evento pubblico quale sia il controllo dell'ente finanziatore su tale sito quali le modalità di accesso di altri attori territoriali al sito chiede soprattutto che l'evento pubblico di tutti i nuovi carnevale di Agropoli sia promosso come un evento pubblico Con questo servizio termina qui questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata